I fattori motivanti per il personale dell'istituto riguardano in particolare lo svolgimento di un ruolo sociale importante e il senso di appartenenza a un ente che è letto come un ente all'avanguardia nell'ambito della pubblica amministrazione. Quindi questo sottolinea ancora una volta, se ce ne fosse ulteriore bisogno, che forte è l'orientamento al servizio, forte è il senso del ruolo sociale che questo istituto ha e forte è anche l'orgoglio di essere parte di questo istituto.